con la mostra dell'artista e poeta visuale cello de barlos si apre il ciclo punto d'incontro estate 2023 percorso d'arte che si svolge tra mostre personali e collettive meeting performance esibizioni di libri di artista francobulli d'autore e arte postale per il 26esimo anniversario dello studio e spazio d'arte il graffiacelo italia a san giovanni valdarno di maia lopez muro l'artista brasiliano presenta per la prima volta in italia la mostra itinerante del suo progetto convergence con un'installazione di 110 poemi visuali e le opere che hanno partecipato ai progetti di me l'arte curati e organizzati dal graffiacelo maia lopez muro curatrice della vostra artista argentina residenza da molto tempo in toscana ci racconta convergenze installazione di poesia visuale di cielo de barlos studio e spazio d'arte il graffiacelo san giovanni valdarno italia muro poetico il laberinto verbale per chi non conosce la poesia visuale tramite le opere di cielo de barlos entra col modo e nel mondo giusto quella convergenza che sembra magica una vera alchimia dove lo spettatore apre lo sguardo all'opera e l'opera si offre senza ostacolo alcuno come in un devenire una simbiosi che finisce per catturarci e ingressare inconsapevolmente nella comunicazione visiva comprendendo e interpretando con la innocenza di un bambino come in una favola ciò che il poeta con i suoi segni e i simboli ci ha voluto esprimere la poesia visuale cielo de barro si presenta come un filo conduttore che ci rivela il mistero che segna la strada percorsa nel laberinto per quindi uscirne ascevolmente in questo percorso visuale che ci segna il filo rosso di arianna della mano di cielo e delle sue poesie possiamo trovare la uscita di una situazione complicata allo stesso tempo cielo con la sua architettura fratale ci svella la uscita il laberinto come luogo architettonico è sempre stato definito come la metafora di un problema nel quale non c'è via di uscita il laberinto per lo scrittore argentino Jorge Luis Borges è un edificio costruito per confondere gli uomini e come si esce del laberinto? all'entrata basta appogliare la mano contro il muro che da verso all'esterno e camminare senza mai toglierla per non perdere l'orientamento seguendo sempre il muro toccandolo con la mano nel nostro caso della poesia visuale del cielo basta seguire con lo sguardo i segni simboli visivi incontro fra testo e immagine lettere con figure parole con immagini letteratura con arte visiva seguire il messaggio dell'autore dopo di che vediamo la luce in questa mostra installazione che si presenta allo studio di Graffiacello le opere giocano fra di sé come un gran poema visuale sono parte ognuna di un gran rompecapi dove la lettura si fa in tutte le direzioni perché funziona e si interpreta a tutto tondo come un gran poema visuale pleno, vitale e completo definisco l'installazione di poesia visiva del cielo del barro presentata al Graffiacello come il muro poetico, il laberinto verbale questo simbolo non appare sempre uguale e in molti casi allo spettatore e lettore vengono fornite varie chiavi per penetrare il significato per descifrarne le implicazioni cielo ci dà alcune di queste chiave nello stesso tempo in cui ne dà altre per entrare nel laberinto infatti le parole visive più utilizzate nelle sue opere di poesia visuale sono le preoccupazioni centrali si tratta di concetti elementari carichi di significati e toni diversi che servono a guidarci nelle loro letture allo stesso modo in cui un segno o una freccia o un filo rosso ci guida a un bibio a scegliere la strada o la direzione da seguire ma secondo me il primo suggerimento che farei agli lettori o spettatori che visitano la mostra è quello di leggere le opere in tutte le sue direzioni alla fine la lettura ci porterà a un punto convergente cielo sfrutta i simboli forniti dalla tradizione dall'iconografia dalla letteratura dalla filosofia e dalla scienza dalla vita quotidiana e crea il suo proprio linguaggio rendendo le sue poesie visive un simbolo molto personale e questo perché grazie alla poesia visuale esprime la propria visione dell'umano esistenza in questo mondo di convergenze o laverinto verbale del muro poetico la cosa più probabile è perdersi perdere il filo e morire senza aver capito niente questi laverinti che appaiono e che possono essere temporali spaziali o retrospettivi sono metafora di un altro laverinto più grande e anche esso indecifrabile l'universo ma cielo ci dà semplicemente la chiave per vedere la luce della uscita e la chiave per comprenderla e interpretarla anche quando sono convinta che proietta e materializza la sua visione del mondo in uno sguardo interiore caotico ma pieno di speranza il risultato di questa alchimia è evidente poiché le angoscia di sentirsi smarriti e soli ha un solo significato magico metafisico come se alla fine del viaggio ci trovassimo in uno spazio mistico e sconosciuto l'essere umano percorre la vita questo laverinto fino ad approdare attraverso le prove esistenziali alla conoscenza in un processo di evoluzione dell'immagine all'interiorità e di sé o viceversa ed è qui che appare la rappresentazione visiva del muro poetico dell'installazione presentata da cielo nella sua mostra personale affrontando questo mondo e trasmettendo quella conoscenza tramite la poesia visuale la cosa più importante non è alla fine del viaggio ma ciò che stiamo raccogliendo, accumulando, imparando durante il percorso per poterlo comunicare così il muro poetico rappresenta l'origine dell'alfa e dell'omega il caos del mondo, la prigione in cui è rinchiusa l'anima e l'essenza la matassa indecifrable di un filo dinamico da dispanare e infine trovare e fissare la punta il filo rosso della vita che collega con loro che sono destinati a incontrarsi indipendentemente dal tempo, dal luogo e delle circostanze una matassa di filo rosso alla rinfusa entra nella mente del cielo come in un imbuto sono le idee e il mondo disordinato in cui viviamo ma ce lo trova la punta del filo quel filo rosso di Arianna emette ordine a tutti i pezzi del gran rompecabezas contemporaneo costruendo e architettando le sue poesie visive quel filo che ci unisce nella poesia visiva e nella vita e ci fa trovare nello stesso punto filo universale punto d'incontro dove convergono tutte le idee, i dubbi, le sensazioni, i sentimenti i pensieri e tutte le direzioni e come dice Borges uscirò del laberinto quando lo faranno tutti gli altri San Giovanni Valdarno, Studio d'Arte e Graffiocelo Muro Poetico Laberinto Verbale, Junio 2023 Il Laberinto Zeus non potrebbe desattare le redi la piedra che mi cerca e ho olvidato i l'hombre che ho avuto i l'hombre che ho avuto i seguo il odio i cammino di monotone paredes che è il mio destino i reti delle galeriche che si curano in círculos secreti al capo dei anni parapeto che ha gastato la usura dei giorni in il pallido polvo e descifrato rastro che temo il l'air mi ha traito in le concavas tardi un bramido o il eco di un bramido desolato se que in la sombra y otro cuya suerte es fatigar las largas soledades que tejen y destejen este Hades y ansiar mi sangre y devorar mi muerte nos buscamos los dos ojalá fuera este el ultimo día del espera il il